In questo video vedremo come creare una rosa con isolo o fomi. La particolarità di questa rosa è che è larga ma non è alta, è bassa, quindi è una rosa da parete. Vedremo sempre in questo video come attaccare sul muro e come creiamo noi le nostre composizioni grandi. Vediamo adesso le misure. A noi serve da 50. Misuriamo da un lato 50. Guarda, tagliate. Secondo passaggio è che dobbiamo tagliare la forma dei pettoli. Abbiamo incolato il centro, i tre pettoli più piccoli. Abbiamo diviso la circonferenza, quindi primo è di qua. Spero che vi piaccia. Facciamo dove vogliamo. Ecco qua il nostro fiore sta fermo. Quindi possiamo creare delle composizioni. Per creare dei fiori più piccoli possiamo fare. Adesso vediamo invece come faccio le composizioni, i corner fotografici grandi. Se sei interessato al video corso per la rosa lascerò sotto questo video il link del corso. Ciao, alla prossima!